Ciao a tutti, guerriere, guerriere, sai, l'ho bentornato in questo video un po' diverso dagli altri, vi volevo avvertire che come vedete dall'immagine c'è una campanella, una campanella che mettete la casella nel fatto della, come si dice, quando vi iscrivetevi al mio canale dovete mettere vicino agli iscritti o compare la campanella, così queste notifiche vi vengono perchè youtube vi toglie l'iscrizione automaticamente, in questo modo attivando la campanella avrete l'iscrizione attiva. domani c'è il megavlog, io sono molto contento, sarà diviso in due parti e sono molto contento perchè vedrete da oggi, da domani ci saranno dei video un po' diversi. noi ci vediamo come sempre domani, ciao a tutti, guerriere, guerriere, sailor, nell'infobox ovviamente troverete tutti i miei contatti, telegram, snapchat con il nome di Sailomunfans eccetera eccetera, i ragazzi del sailor team, più che agli ne metta come direbbe il proverbio, però noi, nell'infobox troverete tutti i miei contatti, ciao a tutti guerriere, guerriere, sailor, ci vediamo domani, ciao! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.